Ciao, sono Cindy e nella vita mi occupo della direzione artistica e della selezione prodotto all'interno di Mulac Cosmetics, un brand che assieme al mio socio Andrea ho fondato circa un anno e mezzo fa. Io nasco dalla rete, in particolar modo da YouTube. Fin dall'età di 16 anni ho prodotto video tutorials di makeup. Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo makeup tutorial in cui vi mostrerò come trasformare un semplicissimo look da giorno in un look un po' più forte, un po' più strong da sera. Il mio canale conta circa 160.000 iscritti e più di 30 milioni di visualizzazioni. Ripenso sempre al momento in cui ho iniziato questo lungo percorso. Avevo due pennelli e una palettina da trucco molto semplice e piano piano attraverso ovviamente la forza di volontà, la passione ma soprattutto il supporto da parte di tutte le persone che mi hanno seguita, sono riuscita ad arrivare fino a qui. Ora invece con internet, gli smartphone e tendenzialmente tutto lo sviluppo della tecnologia, in meno di mezz'oretta già 300.000 persone o 400.000 o tutte quelle che ti seguono possono vedere il trucco e apprezzarlo. Oggi la Sindina è una ragazza che produce sempre per hobby video tutorials di makeup sulla rete ma nel contempo sono anche un'imprenditrice del mio brand cosmetico che ogni giorno cerca di realizzare sempre al meglio il proprio sogno.